Sabato scorso le ultime sette parole di Cristo sulla croce. Il concerto organizzato dall'Accademia Federiciana di Andrea con l'orchestra sinfonica Biagio Abate, diretta da Michele Lorusso. Il momento musicale si è tenuto alla chiesa dell'Annunziata di Andrea e sarà trasmesso su Teledeon domenica alle 21.15. Ascoltiamo un breve passaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.